Cari amiche e cari amici, un interessante articolo di Marco Dattoma intitolato La frontiera infinita delle monete digitali. Il Bitcoin, la criptovaluta più famosa e commercializzata al mondo, sta negli ultimi giorni macinando record su record rispetto al proprio valore e al tempo stesso sta facendo incuriosire sempre più i piccoli e grandi investitori per attrarre maggiori risorse verso questo asset. Il Bitcoin è stato senza dubbio il via libera della piattaforma Paypal nel poter acquistare e nel futuro impiegare direttamente criptovalute tramite la stessa piattaforma. Il Bitcoin è senza dubbio il fiorare all'occhiello di questo metodo di investimento ma in realtà il mondo delle criptovalute è costituito da una grande costellazione di monete digitali che al pari del Bitcoin crescono in maniera galoppante. Certo che la crescita a tassi così elevati non ripara l'investitore rispetto alla rischiosità dell'investimento e soprattutto rispetto a una legislazione ancora latente a livello nazionale ed internazionale. Questi nuovi strumenti digitali sono stati ideati al fine di creare un'alternativa di pagamento rispetto ai metodi di pagamento tradizionali però col tempo sono diventati sempre più degli strumenti di trading piuttosto che delle semplici monete proprio a causa di sbalzi notevoli di valore che spingono gli speculatori ad investire su di essi. Molti scettici nei confronti di questo mondo finanziario consideravano questi strumenti come qualcosa che prima o poi sarebbe crollato su se stesso o che andasse contrastato ma paradossalmente questo dibattito si è spostato nell'arena politica di sistemi più avanzati o ricchi a livello globale. Le banche centrali dei sistemi più rilevanti a livello economico e geopolitico stanno avviando o ipotizzando delle monete digitali alternative alle loro stesse monete legali. Più avanti rispetto a questo settore si trova la Cina che ha sviluppato la Digital Yuan ed ha avviato il suo utilizzo in via sperimentale. Anche la Russia ha avviato un suo programma di digitalizzazione del rublo che affiancherà al rublo nelle transazioni monetarie. L'Unione Europea invece è ancora in fase di ipotesi nel lancio di un euro digitale ma è spinta nella discussione del fatto che uno Stato membro, la Svezia che non appartiene all'area euro sta sviluppando la corona digitale e stando alle regole europee rispetto alla libertà di circolazione dei capitali porterebbe a una piena circolazione di questa moneta digitale nell'interno dell'Unione Europea e quindi ha un flusso di risorse verso la Svezia. Sulla stessa linea rispetto all'Unione Europea si trovano anche gli Stati Uniti spiazzati e impreparati rispetto alla mossa cinese. Il presidente della Federal Reserve di Dallas, Robert Kaplan ha affermato che la Fed dovrebbe iniziare a sviluppare questa alternativa monetaria e questo, da un lato, dimostra l'interesse della Fed nei confronti del dollaro digitale dall'altro, che gli Stati Uniti saranno molto indietro nel momento in cui la Cina avvierà l'utilizzo effettivo dello Kwan digitale. Da un punto di vista geopolitico sembrerebbe che la tregua instauratasi nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe condurre verso una guerra delle monete digitali. Il fatto che Cina e Russia siano tanto avanti in questa nuova tecnologia potrebbe far pensare a un impiego delle monete digitali alternativo rispetto al dollaro nel commercio internazionale questo farebbe senza dubbio crollare il valore della moneta statunitense e ridisegnerebbe ancora una volta l'equilibrio geopolitico sempre in più favore dell'asse cinese. Lo blockchain ha attratto non solo le banche centrali di alcuni paesi ma anche un colosso statunitense come Facebook che anch'esso lancerà a breve una propria moneta digitale che prenderà il nome di Libra e sarà interessante vedere lo sviluppo di questa criptovaluta soprattutto perché il mondo di Facebook consiste in un numero enorme di utenti che utilizzano social network come Instagram, Whatsapp e lo stesso Facebook. Per concludere, queste nuove monete digitali hanno molto in comune rispetto al bitcoin ma con differenze rilevanti primo, nel bitcoin la produzione delle monete è decentralizzata mentre in queste nuove monete la produzione sarà demandata nelle mani delle banche centrali di riferimento secondo, le criptovalute già in circolo non hanno un valore stabile e per questo sono oggi degli ottimi strumenti speculativi mentre le monete digitali nazionali avranno come obiettivo quello di essere delle stable coin al fine di poter essere utilizzate nella quotidianità Bene, cari amiche e cari amici lasciate un piccolo contributo al decimo toro un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo